Ciao a tutti, adesso dove ci troveremo sabato e domenica, partiremo da qui per fare la nostra camminata della consapevolezza in questa direzione in mezzo ai grilli e alla natura e alla pace. È una corsa a tappe in cui ci sarà spazio per fare esercizi, meditazioni e ascoltarci profondamente. Questo nasce per tornare nel nostro mondo immaginifico di quando eravamo bambini e che tuttora vive in noi. Ed è un modo per riprendere contatto con noi stessi e con la vita che desideriamo. Sono qui di fronte che brulica l'erba, vediamo se riesco a farvelo vedere. Saper scegliere ad ogni bivio della vostra vita, lasciandovi guidare dal vostro cuore, dalle vostre intenzioni e i vostri valori. Vi aspetto!